Furto ai danni di un negozio di telefonia in pieno centro di Matinella. I ladri si sono introdotti all'interno del locale questa notte intorno alle 3.30 facendo razzia della merce collocata negli espositori. Sul posto si sono recati i proprietari allertati dall'allarme automatico scattato al momento dell'irruzione. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Agropoli che dopo i rilievi del caso stanno cercando di carpire elementi utili dalle telecamere di sorveglianza piazzate nei pressi dell'attività commerciale. Ancora non quantificato il bottino del furto.